La San Cataldese ha tesserato il difensore Salvatore Maltese, ex Trapani e Licata, giocatore ritenuto tra i più validi nel suo ruolo per il campionato di Serie D. Un innesto di classe ed esperienza che a questo punto blinda la retroguardia verde-amaranto, composta assieme a Maltese da atleti di altissimo profilo, fanno sapere dalla pagina Facebook della San Cataldese. Da questo ingaggio la società si aspetta una risposta positiva e propositiva in termini di entusiasmo della piazza. Intanto il Catani è stato ammesso ufficialmente al campionato di Serie D in soprannumero. La presenza della società etnea renderà ancora più prestigioso un girone ricco di pretendenti alla vittoria finale. È stato escluso il Giarre. Tornando alla San Cataldese c'è aria di attesa per il derby con il Catania, una nobile decaduta che vuole tornare in fretta in categorie più consone al blasone. E non è difficile immaginare già adesso il pubblico delle grandi occasioni al Valentino Mazzola di San Cataldo per una partita destinata a rimanere nella storia del club verde-amaranto. Grazie.